Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in un gioco che è uscito in pratica l'altro ieri per smartphone E lo stiamo giocando da Bluestacks come sempre Arriviamo a 300 like, condividere i video, iscrivervi al canale del segnale, lasciare l'hashtag Fullmetalmonsters qua sotto i commenti per ricevere un coricino E andiamo avanti alla nostra nuova puntata Allora, non so se le impostazioni sono state fatte Non so effettivamente se i movimenti ci sono Ok, ci sono ma non abbiamo impostato i tasti Quindi imposto un attimo i tasti e torno immediatamente Ok, per adesso ho impostato solo il Waz che mi permette di muovermi Poi dopo giustamente la mira la devo dare a mano Allora, questo gioco come ho scritto dal titolo è un'incrocio abbastanza Che si nota effettivamente Di un Brawl Stars e un Jurassic World Abbiamo i dinosauri ma abbiamo anche le battaglie in stile arena In questo caso in stile sopravvivenza Allora, possiamo sparare e possiamo anche mordere da vicino In questo caso con il nostro bellissimo dinosauro Possiamo cambiare anche tipologia di dinosauri In questo caso possiamo andare col volante Ok, il volante ha anche i comandi per volare in aria Come vedete appunto E possiamo andare in avanti Con molta tranquillità Svolazzare Scendere Non è molto facile come il movimento all'inizio E bisogna abituarsi Dinosauro caduto in battaglia Giustamente lo spawns a 8 secondi Cambiamo di nuovo dinosauro E vediamo un po' cosa ci fa fare Ok, questa è un'altra tipologia di dinosauro Vediamo un po' con la mira che cosa fa Boom Mamma mia che colpi che tira Ok, magari dovrei impostare il pulsante dell'attacco A mio parere Perché se no mi ritrovo Mentre sto mirando a non poter attaccare in automatico Ok, bonus di benvenuto Grazie, già c'è rica la roba Random Allora, non ho mai ancora giocato Quindi non so effettivamente come funziona Metti ora alla prova la tua abilità in combattimento Ok Quindi posso andare a fare una battaglia diretta contro qualcuno Ok, sta partendo Allora, potenzia il tuo dinosauro per aumentare i suoi punti vita Lo sappiamo come funziona Dai Battaglia Entriamo in gioco Ok, sta caricando Siamo liberi Siamo pronti al combattimento Che dinosauro ho? Uno di base probabilmente Ok Gli avversari sono lì davanti Sai che due dei nostri già sono morti Possibile Aggancio a bersaglio Ah, ok Posso pure agganciare i bersagli E farli secchi immediatamente Prendendoli male Allora Non abbiamo salti Abbiamo soltanto i movimenti O c'è il jump Eccolo il jump Abbiamo dei jump molto grossi Ok Aia Buongiorno Bersaglio successivo Sgancio a bersaglio Ti prego, ok Questo qua È tosto da uccidere L'abbiamo ucciso Non penso Ok Per fortuna c'è anche un po' di auto attack Quindi basta mirare Aia Devo mettere anche lo spazio al jump Mi sa Perché se no siamo nei guai Ok Il combattimento prosegue Sto colpendo quel maledetto Lui sta scappando pericolosamente Perché forse voleva prendere questa zona Mi sa di sì Penso che possano essere catturate le zone Ok Stiamo catturando C Noi mi sa Ok C è nostra Dovrebbe essere così Ok Andiamo a prendere le altre È un combattimento a zone Simpatico Non so Morduchino quanta vita C'ha C'ha ancora un vagone di vita Morduch A posto Così Non ci serve A ganciare i nostri nemici Non abbiamo niente per correre Presumo Perché se no era molto carina Come cosa Non so se posso andare là C'è un nemico comunque Che sta FK Presumo Andiamola a prendere male Buongiorno Ok Interessante questa cosa Abbiamo trovato un tizio da FK Da prendere a schiaffi Buongiorno Che si dice Arriva Ambrosa Penso che morirà da solo Alla fine A una certa Intanto c'è anche Il tempo di ricarica Che è molto lungo Di questo gioco Ok Abbiamo catturato due zone Andiamo a prendere l'altra Anzi Una sola Ne abbiamo catturata Ok Questa la vado a catturare io Allora Vittoria Va bene Forse sono morti tutti Possiamo fare potenziamenti vari Possiamo andare a potenziare Il nostro robottino Il nostro dinosauro Potenzia Ok Possiamo accelerare Il fatto di potenziarlo Ok Abbiamo ripotenziato Tanti punti Ce ne abbiamo Presumo Pazza Quanti punti C'avevamo da parte Una vagonata Ok Mette ora alla prova Le due abilità in battaglia Aspetta un attimo Perché voglio vedere un attimo Che devo fare Allora Questo è il dinosauro Che stiamo utilizzando adesso Molto interessante Abbiamo anche la scelta Di un altro dinosauro Il chaser Direi che lo potenziamo A parte Guardate quanti ci abbiamo Dei punti potenziamento Mi sa che L'hanno regalato Un po' troppi Per quelli nuovi Ok Ci hanno regalato Un sacco di roba Perché siamo tra i primi Che lo stanno giocando In anteprima Presumo L'ho potenziato Un po' tanto Ho sprecato forse Un po' tanti punticini Ok Penso che utilizzeremo lui E andiamo in gioco A provarlo C'è io un dinosauro Vai Il nostro chaser Livello 8 Vai Battaglia Ok Siamo in gioco Vedo i nostri nemici Laggiù Allora Questo non c'ha il jump Come dinosauro Il colpo Non so com'è Perché non spara Se non miro Quindi Probabilmente È un colpo specifico Molto particolare Ah Aspetta però C'ha la chargiata Ok Forse è aggressivo Forse è un mozzicatore Forse non attacca A distanza Dobbiamo essere sicuri Di questa cosa Probiamo ad andare contro Un nemico Anche se rischiamo Di morirci male Perché vedo che Stanno tutti in gruppo Che sanno tutti Dove è morduchino Ok Mi sa che sì Il chaser È uno di quelli Che chargia Aia No mi sto facendo Ammazzare malissimo Ah no Posso attaccare Posso attaccare Ok 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 Sto mordendo Sto uccidendo Che cosa succede qui Morduchino che fa le kill No non c'è credo Morduchino Morduchino che fa le kill Non c'ha l'auto attack Sto coso però Aiuto Ok l'ho ucciso Non è per niente facile Imparare a muoversi A questo gioco Allora loro sono già morti Indiversi Io intanto Gli sto fregando C Ok non c'è Recupero vita Quindi una volta persa È perso Intanto Là c'è qualcuno Ok non viene nessuno Là hanno ucciso Qualcun altro Questo è il nostro compagno Allora dovremmo andare Da un'altra zona Da catturare Vedo qualcuno A FK Però regà Qua ci stanno Troppi giocatori Che provano Entrare in gioco E poi non giocano Devono essere Talmente freschi Freschi Oppure Ah no Sta proteggendo Beh giustamente Ok ho agganciato Il bersaglio No non stava Proteggendo Sennò sarebbe morto Ok Catturiamo anche Questa zona Abbastanza facile Se Se la gente Non viene a giocare Oh guarda guarda Arriva il nostro compagno Pian pianino Catturiamo un'altra zona E poi ce ne manca Una sola Che dov'è Allora vedo il nostro nemico Potrei uccidere Direttamente lui Famo prima Dove sei Già stanno combattendo loro Ma lo stanno attaccando Presumo già Ok facciamo una charge No quello sta FK Rega dai Quello sta FK Ogni se po' di niente E vabbè Sono morti tutti Abbiamo vinto così Tanto è vinta così Assolutamente Allora Manca un punto Da Catturare Ma dov'è Abbiamo vinto Perché sono morti tutti Stiamo entrando in un'altra battaglia Mi riscelgo il mio chaser Livello 8 Perché comunque Oh Era grintoso E vediamo un po' Se in questa partita C'è gente un po' Più svegliotta Ah ok Abbiamo due charge Di quella specie di Flash Ok Allora facendo così Catturiamo la zona Se stiamo in due La catturiamo più velocemente I nostri avversari Sono qui Li vediamo Allora Eccone che arriva il primo Mi piacerebbe agganciare Quel tizio Maledetto Oh no 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 Scherzavo Aggancia Aggancia su quello Mi sa che da lontano Così non prende È troppo distante Per il chaser Allora aggancia Allora È rimasto uno Ok Vai coi missilotti Boom Abbiamo vinto a devasto Regà Ma la gente è nabba Sti livelli Eh Siamo troppo forti noi Mamma mia Tutti morti Sono arrivato a livello 3 Quindi mi hanno sbloccato Un nuovo dinosauro Questo svolazza ragazzi Quindi dovrò cercare Di muovermi Svolazzando Un qualcosa di Improponibile Per mordughino Per fortuna Abbiamo l'aggancio Anche qui Ok Non vedo nemici Non abbiamo tantissima vita Abbiamo molto meno vita Del normale Ok Posso svolazzare Quanto in alto Ok Abbastanza Oserei dire Potrei provare Ad attaccare da qua giù Ma non penso Di colpire Eh Aia Eh no Però mi colpisce lui Porca zozza Se mi colpisce Allora Io l'ho colpito Fino a che non era Dietro al muro Ah Lo stanno colpendo Anche gli altri Però eh Eh però Qua c'è sta Un muretto Della fava Versaio successivo No quello è troppo lontano Uno più vicino Quello Aiaia Mi stanno a meno a me Dai chi è Dov'è il maledetto Sta qua Eccolo De pio De pio De pio De pio E ti faccio nero Mamma mia Lo sto devastando Ah non mi hai preso Movimento laterale Sbam Allora c'è gente Che mi spara A lunga distanza Aggancia Bersaio Boom Boom Ok Devastato Preferisco uccidere loro Che prendere le basi Dove stanno Dov'è l'ultimo Non lo vedo Vedo l'ultimo tizio Stata la base nostra Eh State da noi Stata lo schifoso Aggancia Bersaio Ma tanto da qua Non lo prendiamo Me sa Oh si Mi sa di si Ma che se è nascosto Non l'ho capita sta cosa Ci stanno in abbia I primi livelli Sicuramente Come in ogni gioco E questo penso sia uno di quelli Grazie Ci hai dato la vittoria col volante Eh eh Ci piace Questa è un'altra vittoria sicura Anche perché tanto adesso catturano Ci facciamo tutto A posto Allora ragazzi Questo era Full Metal Monster Un gioco che è uscito Più o meno da tre giorni Quindi ha ancora bisogno Di un pochino Di aggiustamenti Però alla fine si È un Brawl Stars Arena Con catturazzone Però In questo caso Con i dinosauri E se ne possono sbloccare Tanti altri Vedo Ce ne sono di tantissime tipologie Anche leggendari Anche grossi Vediamone qualcuno Bellissimo Molto belli alcuni Ah C'è anche Triceratopo Fantastico Che si chiama Bemot Il Sentinel Mamma mia Quanti ce ne sono Quanti Chi è questo Ah questi si comprano addirittura Mamma mia Bello però Stupendo Va bene raga Questo era il gioco Che volevo mostrarvi Un gioco molto semplice Ancora deve migliorare Arriviamo a 300 like Condividere i video Iscrivervi al canale E se ne vuoi Lascia l'hashtag Fullmetalmonsters Lo sotto i commenti Vi ricevo un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video Se lo volete E ci vediamo nel prossimo video E ci vediamo nel prossimo video